Buon lunedì a tutti da Marcus, eccoci ritrovati. Allora, oggi è lunedì di estrazione perché sabato non c'era l'estrazione, dato che era ferragosto. Quindi, cosa giocare? Giocare sempre ancora su Milano, perché quando la previsione si fa vedere subito sulla ruota al quarto colpo, come è successo nel caso di Palermo, adesso andremo avanti per Milano, perché Milano non è ancora uscita. Cosa giochiamo, Marcus? Guardate che avete fatto confusione, perché se noi andiamo indietro, quindi questo è 0, guardate, vi faccio vedere. Allora, questo è 0, quindi se noi torniamo indietro, vedete, è riuscito all'88, vedete, l'88 era in terza, poi è riuscito a Milano, ma se andiamo ancora indietro, l'88, l'89, guardate, siamo già sette colpi indietro dalla previsione, guardate, otto colpi indietro, 9, 10, 11, 12, vedete, e di nuovo a Palermo. A Palermo è uscito tre volte, quindi cosa succede? Succede che adesso andremo a rigiocare l'88 e l'89 proprio su Milano, perché la previsione è aperta e quando arriva nei primi colpi vedrete che poi si affaccerà o l'88 o l'89 a Milano. Palermo ha già dato, quindi questa sera, quinto colpo di gioco, ma ripartiamo con la ruota di Milano, perché si ripete poi sulla ruota dove è nata la previsione, quindi in questo caso Milano, si è uscito a Palermo, adesso Milano prepara o l'88 o l'89, gli abbinamenti 1 e 2, 10 e 20. Adesso andiamo a vedere le posizioni del Milano, allora, innanzitutto di nuovo, rispolveriamo la situazione dell'88 a Milano, che è bellissima, perché qui abbiamo una frequenza di 34 e poi abbiamo una, guardate, soglia di uscita che arriva negli standard di quelli già usciti in precedenza, quindi siamo in una situazione ottimale per Milano, attenzione, 89 adesso di Milano, 89 di Milano è molto più frequente, 38 presenza anziché 34, di nuovo negli standard di uscita, quindi siamo a cavallo sia con l'88 o con l'89. I colpi di gioco? 3, 4, 5, non di più. Andremo a vedere se veramente quello che dico si realizzerà, perché quando le previsioni su somma X2, questo è un fantastico programmino, è un fantastico sistema, che le ombate arrivano più di un'occasione, quindi l'89 nelle posizioni indicate saranno queste. Allora, poi andremo a rivedere l'88, quindi diamo la rispolverata di quello che ho detto già in precedenza venerdì sera, quindi 89, prima, terza e quarta posizione da giocare, per gli appassionati del Kama Sutra numerale. Poi, l'89 di Milano, terza e quarta posizione, quindi 88, ripeto, a Milano, terza e quarta posizione, 89 a Milano, prima, terza e quarta posizione, quindi gli abbinamenti sono sempre gli stessi, 1, 2, 10, 20. Stop, non c'è nient'altro da aggiungere, quindi la previsione si porta oggi e domani tranquillamente avanti, quindi vedremo poi stasera se c'è qualche risultato. Comunque le posizioni sono quelle, gli abbinamenti rimangono quelli, vedrete che si riaffaccia o l'88 o l'89 su Milano. Un abbraccio a voi tutti, Marcus, alla prossima e se non stasera, magari con se ci sarà l'esito, ok? Ma domani di nuovo, se non è stasera, si riporta avanti la previsione ancora, perché è freschissima questa previsione, quindi ve l'ho detto, entro i 7, 9, 11 colpi, paga anche 3-4 volte questa previsione, quindi ci risentiamo dopo, è probabile che paghi di nuovo, ok? Ci risentiamo dopo, Marcus, ciao, un abbraccio!